L'inflazione in Italia non molla la presa e per dare un aiuto alle famiglie italiane il governo ha distribuito nei mesi scorsi, anche nell'Aretino e solo a coloro che ne avevano diritto, su base Isee, la carta dedicata a te. Si tratta di una prepagata consegnata da poste italiane che contiene 382,50 euro per l'acquisto solo di beni alimentari. Un bonus erogato una sola volta in molti sostengono una vera elemosina, ma in autunno potrebbe essere prevista la redistribuzione di eventuali fondi residui. È una misura assolutamente insufficiente, è un'elemosina. Noi vediamo tutti i giorni, non da settembre, da lunedì prossimo, noi saremo lì sul pezzo sempre e comunque. Noi siamo sempre stati disponibili, abbiamo una mail, chiunque sia in necessità ci può contattare in qualsiasi momento, ma noi saremo operativi già da lunedì. È insufficiente, non si può vivere, non si compra neppure un chielo di pane e noi ripetiamo, non è possibile che gli ultimi paghino il prezzo per tutti. Chi più ha deve mettere a disposizione della comunità. Chi più ha deve mettere a disposizione della comunità.